Vigilia del diciassettesimo turno della Serie 2 Old Wild West, Rimini si prepara per una trasferta, Riviera Banca impegnata sul campo dell'Umana Chiusi e la vigilia, manca poco alla partenza, sono in compagnia di coach Sandro Dell'Agnello. Coach, buongiorno, una partita molto importante in trasferta, dove è importante soprattutto portare a casa i due punti in questo momento e sbloccare la classifica. Per noi è una partita importantissima, dobbiamo interpretarla come se non ci fossero domani e dobbiamo andare lì per fare battaglia, nel senso sportivo del termine, non ci sono se e non ci sono ma. Nessuno ci può tirare fuori da questa situazione tranne noi, abbiamo e ho sicuramente una determinazione feroce nel far sì che la situazione sia giusti e la situazione passa intanto dall'impegno di domani. Abbiamo bisogno di fare ovviamente una buona prestazione con l'idea di andare liberamente con il coltello tra i denti e di fare il massimo possibile di quello che possiamo fare nelle nostre attuali condizioni. Abbiamo avuto qualche problemina in settimana ma domani non possiamo assolutamente pensare a questo e chi ci sarà deve assolutamente pensare a fare il massimo e interpretare la partita come se non ci fosse un domani. Incontrerete una squadra che ha avuto molte vicissitudini in questa fase di andata e come si affronta quando si incontra una squadra che ha cambiato tanto durante l'arco della stagione? Se parliamo di vicissitudini purtroppo, parlo di infortuni e di contrattempi, ne abbiamo avuti un migliore anche noi. Non possiamo stare a pensare troppo a queste cose. Domani per noi la partita è troppo importante ed ovviamente lo è anche per loro perché anche loro hanno bisogno di muovere la classifica. Quindi dobbiamo cercare di essere concentrati su quello che dobbiamo fare, sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci siamo allenati tutta la settimana per questo. L'importante è non tanto il cosa faremo ma il come lo faremo con una determinazione feroce. In questo momento è importante pensare a una partita alla volta, anche se avrete due trasferte di fila. Immagino che l'attenzione sia veramente tutta concentrata sul nuovo impegno. Sì, in questo momento non c'è niente oltre alla partita di domenica, assolutamente. E a livello di condizioni i ragazzi come stanno? Abbiamo avuto qualche problemina in settimana, però non parliamo che tanto non serve a niente. e conto domenica di poter essere tutti e quindi di fare, sabato domani, di poter essere tutti e quindi di fare la nostra miglior partita. E per affrontare l'impegno hai chiesto qualcosa in particolare ai ragazzi a livello di approccio alla partita? Il massimo. Massima determinazione insomma. Il massimo di quello che possiamo fare e ci mancherebbe altro. Ti senti di lanciare un messaggio ai tifosi? Alla vigilia della partita vi seguiranno comunque anche in Toscana? Guarda, io da quando sono qua, dopo che sono arrivato, mi sono veramente identificato. Vedo la società, l'ambiente in cui siamo, il palazzetto, i tifosi e mi sento veramente in, come dire, in debito. Li devo risolvere questa situazione e vi garantisco che la risolveremo. Grazie coach e buona trasferta. Grazie. 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 Grazie.